Come risolvere così i problemi riguardo all'easy anti cheat che non è installato nella cartella di Fortnite? Dopo questi ultimi aggiornamenti l'easy anti cheat sembra sparito nella cartella del gioco, quindi dice sempre easy anti cheat non installato, anche se abbiamo la cartella di easy anti cheat dice non installato. Quindi noi abbiamo la cartella dell'easy anti cheat nel disco locale C, quindi se vai su questo pc, disco locale C, vai in program file oppure in programmi per 86 ed eccolo qua, easy anti cheat trattino basso EOS ed eccolo qua. Abbiamo la prima cartella dove ci possiamo cliccare sopra e provare ad installare il programma, quindi se non si installa qua sopra possiamo andare semplicemente nella cartella di Fortnite, quindi vai sui tre puntini qua, tre puntini, gestisci, vai nella cartella del gioco, fortnite game, finalis, 64, easy anti cheat. Easy anti cheat trattino basso EOS ed eccolo qua, schiaccia qua sopra F2 oppure rinomina la cartella. Ovviamente anche andando sul sito sul supporto di Epic Games ci dice anche come installare l'easy anti cheat, quindi noi adesso andremo a prendere questo comando, ti ho lasciato anche questa pagina in descrizione, facciamo copia per farti vedere come si fa. Rinomina, facciamo spazio, ctrl V, facciamo invio, una volta fatto eseguilo come amministratore e facciamo sì. Easy anti cheat si è aperto per un secondo, vuol dire che si è installato manualmente, abbiamo installato noi con install prod trattino FN, una volta fatto chiudi qua. Riprova ad avviare Fortnite, se no chiudi il client di Epic Games, quindi chiudi Epic Games, riapri di nuovo Epic Games. Libreria, tre puntini, gestisci nella sua cartella, Fortnite Game, binaries, 64, easy anti cheat. Riprova di nuovo con install prod FN, basta, e poi fai anche una verifica al gioco. Ora non dovrebbe più uscirti quella pagina riguardo a easy anti cheat non installato, quindi quella schedina che quando avvii Fortnite dice easy anti cheat non installato. Ora non mi resta che avviare il gioco. Il gioco si è avviato senza nessun problema, quindi se ricevi dei problemi commenta su tal video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.